ciao a tutti benvenuti a questo nuovo tutorial oggi siamo qui per provare in sostituzione dell'app ufficiale djgo l'ici abbiamo a disposizione un phantom 3 advance nello specifico oggi proveremo la funzionalità orbit in modalità orbit abbiamo la possibilità di far eseguire al drone una rotazione rispetto a un punto fisso che assegneremo noi sulla mappa dando la possibilità di impostare anche altezza a cui ruotare e raggio di rotazione ora vediamo come impostare queste cose bene ora ci prepariamo al volo commutiamo il radiocomando in f selezioniamo la funzione orbit a questo punto sullo schermo indichiamo il punto sul quale far ruotare il drone in questo caso ne selezioniamo uno già vicino alla nostra posizione questa icona azzurra ci dà la possibilità di impostare i vari parametri quindi abbiamo l'altitudine a cui deve orbitare e il raggio dell'orbita valore minimo di raggio 5 metri il valore minimo di altitudine e 5 metri quando impostate i valori fate attenzione che non ci siano ostacoli una volta impostato il tutto basta avviare in caso di problemi si può interrompere immediatamente l'operazione riportando in p il selettore sul radiocomando bene questa è una delle tante funzioni di ricci nei prossimi video vi mostreremo anche le altre video vi è stato utile mettete un mi piace iscrivetevi al canale alla prossima